we che cactus fai da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone daie bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo velocissimo video io sono xyuder e ragazzi fortbyte numero 3 disponibile da pochissimi minuti a lande letali ringrazio tutta la chat che me ne ha appena reso nota la sua apparizione vi ricordo ragazzi un fortbyte ogni giorno fino ad arrivare a 100 ma nel video di domani mattina vi faccio vedere il 30 per cento dei fortbyte già scoperti dai leakers sappiamo già in realtà che cosa c'è nell'immagine sotto andiamo a vedere ragazzi dovrebbe rimanere al secondo piano della casa se riusciamo a non farci ammazzare andiamo di prepotenza a prenderlo ragazzi vediamo subito vi ricordo che vi serve a prendere i fortbyte raga non dimenticatemi di dimenticatevi di prenderli tutti tutti quelli che potete alcuni sono in mappa altri invece si trovano semplicemente con delle missioni dovrebbe essere vicino alla scrivania ora io morirò vediamo se riesco senza crepare eccolo ecco il fortbyte una foto veloce preciso ok fortbyte preso ragazzi fortbyte numero 3 preso lo xuder scappa di prepotenza io vi ringrazio per avere guardato questo video un bel pollicione in su seguite la playlist con tutti gli altri fortbyte noi ci vediamo in live ciao 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 ciao